Ti rendi conto? Produttori, artisti, stari internazionali? Stasera è la nostra grande occasione. Oh, ma che hai? Può andare, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento qui nel magico scenario del New Macumba. Siete pronti ad immergervi nella bellezza, nell'eleganza, insomma nella sinuosità delle nostre modelli? Beh io direi di cominciare subito perché ci sono tantissime sorprese e soprattutto delle modelle dalla bellezza indiscutibile. Vuoi rovinare tutto per la tua attività? Ma cosa credi che io non sia di casa, che io non sia del volo? Ciò che mi rende forte è la consapevolezza che abbiamo dato a tanto. Sappiamo benissimo che cosa ci spetterà quando faremo l'iscienio. Perché non permetteremo a nessuno di riunirci di questa terapia. Tu hai una delica e io bisogna di te. Insieme ce la parliamo. Siete pronti ad un nuovo appuntamento. Grazie a tutti.